Riapertura dei settori manifatturiero e delle costruzioni, commercio all'ingrosso funzionale ai due settori, riapertura delle attività di ristorazione ma solo con le modalità di vendita da asporto oltre che attraverso le consegne a domicilio e senza assembramenti, visite mirate ai familiari ma con obbligo di mascherine, apertura di parchi e giardini ma con ingressi contingentati e senza assembramenti, riti funebri alla presenza di un massimo di 15 persone, ripresa degli allenamenti per gli atleti coni ma a porte chiuse e attività motoria che potrà essere effettuata anche lontano dalle proprie abitazioni. In ogni caso per muoversi all'interno del proprio comune dove dunque sarà possibile dal 4 maggio far visita ai propri familiari sarà ancora necessaria l'autocertificazione con il nuovo modulo in cui alle già note motivazioni per uscire di casa si aggiunge quella della visita ai parenti. In sintesi sono queste le misure previste dal nuovo decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, quelle relative alla fase 2 dell'emergenza coronavirus, la fase di convivenza con il virus. Dal 4 maggio sarà dunque possibile spostarsi all'interno della regione in cui ci si trova anche per fare visite mirate ai propri familiari nel rispetto delle distanze e con le mascherine. Vietati però ritrovi, riunioni e feste di famiglia. Resta valido il divieto di assembramenti anche in casa e soprattutto per proteggere i più anziani è prescritto l'uso della mascherina. Sarà consentito tornare alla propria residenza o domicilio. Sarà dunque possibile per studenti, lavoratori o chiunque altro rimasto bloccato in altre città dal lockdown, fare ritorno a casa. Non sarà possibile invece spostarsi in altre regioni tranne che per motivi urgenti di salute o di lavoro. I ristoranti potranno riaprire ma solo ed esclusivamente per l'asporto con cibo da consumare rigorosamente a casa o in ufficio e pertanto niente assembramenti davanti ai locali di ristoro. Dal 4 maggio inoltre potranno essere riaperti i parchi purché nel rispetto delle distanze e delle prescrizioni di sicurezza e si potranno celebrare i funerali alla presenza, come si diceva, di non più di 15 persone con mascherine sempre rispettando la distanza. No invece alle messe e nessuna posizione sulla riapertura dei cimiteri con il governo che ha preso tempo e non ha ancora ufficialmente aperto a questa possibilità. Per il resto rimangono vietati tutti gli assembramenti in luoghi pubblici e privati. Dal 18 maggio potranno riaprire i negozi, le attività di vendita al dettaglio, le mostre e i musei. Per quanto riguarda bar, ristoranti, attività di cura della persona e dunque parruccherie e centri estetici invece il governo prevede una riapertura solo dal 1 giugno. In ordine alle attività motorie sarà consentita non più nei pressi della propria abitazione, sempre individualmente o comunque a distanza di sicurezza, con la sola eccezione di persone conviventi nella stessa casa. Potranno riprendere ad allenarsi gli atleti professionisti delle discipline individuate dal CONI, non negli sport di squadra, la cui ripresa dovrebbe avvenire il 18 maggio. Quanto alle scuole, resteranno chiuse fino alla fine dell'anno scolastico per evitare di scatenare una nuova curva di contagio. Si sta solo cercando di consentire il prossimo esame di maturità in conferenza personale, in presenza, in piena sicurezza. Su richiesta del Comitato Tecnico Scientifico si è dunque ritenuto di programmare step di riapertura di 14 giorni per verificare nel frattempo gli effetti di ogni riapertura, una ripresa graduale con prudenza per evitare la ripresa dei contagi. Intanto il rinvio al primo giugno della riapertura delle attività che si occupano della cura e del benessere della persona registra a livello regionale la protesta degli operatori dei centri di acconciatura ed estetica. Attraverso il coordinatore del comparto di CNA Sicilia chiedono con forza, attraverso un accorato appello alle istituzioni regionali, che la Sicilia, facendo leva sul fatto che la parabola del contagio è ormai vicina allo zero, rivendichi una diversa programmazione della ripresa delle attività, in modo da consentire ad acconciatori e centri estetici, ma anche a bar e ristoranti, una riapertura più riavvicinata nell'ambito della calendarizzazione dell'avvio della fase 2. La linea dura dello slittamento, osservano, si tradurrà in un sonoro incasso zero per oltre tre mesi. Stiamo parlando di un settore in ginocchio che è stato uno dei primi a chiudere i battenti alle prese con un notevole danno economico e con l'insidia della diffusione dell'esercizio abusivo della professione, conclude l'associazione di categoria.